Un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook, attraverso YouTube, dai nostri studi in Via Cavoltrea a Belluno. Marco Crevas vi accompagnerà nella lettura di oggi dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Ma come sempre prima di iniziare, leggiamo assieme l'almanacco di oggi per quanto riguarda venerdì 24 luglio 2020. Oggi si ricorda Santa Cristina di Bolsena Martire. Il nome Cristina deriva dal nome di Cristo, Christos in greco che significa l'unto, l'eletto, il Messia. Si diffuse dopo l'editto di Costantino che garantiva la libertà di culto ai cristiani. Dice il proverbio, quando il vento segue il sole, bel tempo vuole. Sono nati oggi Alexandre Dumas, padre nel 1802, Vincenzo Salemme nel 1957 e Jennifer Lopez nel 1970. Il 24 luglio del 1908, l'atleta italiano Dorando Pietri passa la storia durante la maratona ai giochi olimpici di Londra. Stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo, sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro. Il 24 luglio 1911, Hiram Bigam riscopre in Peru Machu Picchu, la città perduta degli Inca, oggi patrimonio dell'umanità Unesco. Il 24 luglio del 1969, l'Apolo 11 ammara nell'oceano Pacifico. Accolti come eroi, ritornarono sulla Terra gli astronauti che hanno camminato sul suolo lunare. Antoine Sanosoperi ha detto, gli occhi sono ciechi, bisogna cercare con il cuore. E dopo la lettura dell'almanaco, leggiamo assieme invece il gazzettino Il Corriere delle Alpi di oggi, diamo subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Ecco come si apre il gazzettino di Belluno, titolo a piena pagina, riferito alle imprese bellunesi. Questo è un appello, appello alle imprese, alleatevi. In aprile cifre disastrose, Confindustria indica la strada per la ripresa, fondamentali le aggregazioni di aziende. Il direttore Ferrazzi, non è vero che piccolo è bello, spesso è un freno alla produttività e all'innovazione. Dopo una primavera da incubo per la produzione industriale belunese, i numeri dicono che per tre mesi tra il 60 e il 70% delle aziende è ricorsa agli ammortizzatori sociali. Si prova a guardare avanti il quadro nazionale ormai consolidato, spiega il direttore di Confindustria, Belluno Dolomiti Andrea Ferrazzi, dice che nei primi cinque mesi c'è stato un crollo della produzione del 20%. Per il futuro, la sola certezza è l'incertezza. La ripresa dovrà quindi tener conto di nuovi modelli di sviluppo partendo dalle aggregazioni di impresa. L'approfondimento di Donaia e Zambenedetti lo troveremo a pagina 2 e 3. Foto di copertina. Auronzo, il comune, stiamo risolvendo il problema. Imprigionati sulla strada delle Tre Cime. Ci risiamo, code chilometriche per raggiungere le Tre Cime. I turisti protestano come un trevigiano con una seconda casa ad Auronzo intrappolato lunedì che ha inviato una segnalazione al Comune, alla Prefettura e alla Fondazione Dolomiti Unesco. Case di riposo. Una dedicata ai malati Covid. L'USL annuncia la creazione di una nuova struttura a livello provinciale. Una casa di riposo per il Covid-19. L'idea della regione Mallus numero uno Dolomiti rilancia. Costruiamo, annunciato ieri in una riunione dedicata al tema, il direttore dei servizi sociosanitari Gian Antonio De Tos, una struttura nuova per questi pazienti. Dovrà essere un centro servizi per anziani a Valenza Provinciale, naturalmente in grado di accogliere tutti i non autosufficienti positivi al virus in tempi di non pandemia. Invece sarà una casa di riposo come le altre. Richiami di spalle. Cortina. Albergo Ampezzo. Lo vogliamo riaperto. Cencinighe, Senz'acqua, Trefrazioni e l'area Luxotti che ancora lo obbligano a togliere le telecamere derubato. Per evitare una multa di 40.000 euro dell'ispettorato del lavoro ha dovuto togliere le videocamere esterne del sistema di sorveglianza alla sua impresa florovivaistica. Mancava un'autorizzazione e puntualmente sono arrivati i ladri. Così la cordevole di Luca Viadenati a Santa Giustina è stata derubata di attrezzi di 18.000 euro. Il raid è avvenuto nella notte e alle 8 di ieri mattina Via Viadenati ha scoperto quello che definisce il disastro. Siamo in piena stagione, ho sei dipendenti e mi trovo senza parte dell'attrezzatura. Lanciato un appello anche sui social segnalando la targa del mezzo scomparso. Al campo sportivo gli alpini, i suoi trattori, i suoi cani e liga bue. Limana saluta Giorgio. Lacrime per l'ultimo saluto al limanese Giorgio Favero. Il 27enne è morto domenica notte in un incidente a Terichiana. Al campo sportivo di Valmorelle c'erano i suoi trattori, la sua moto, i cani del gruppo cinofilo di cui faceva parte, i volontari della protezione civileana, donatori di sangue e di organi e alla fine una canzone di Liga Bue. L'approfondimento a firma di Fanta lo troveremo a pagina 10. Questa è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso il titolo principale, la notizia principale è identica a quella riportata dal Gazzettino di Belluno. Parliamo dell'economia post-Covid in provincia di Belluno. Aziende in difficoltà ha fatturato in caro del 20%. Secondo un'indagine di Confindustria, il 70% delle imprese belunesi lamenta forti perdite. Il consiglio del manager Gaio, l'unione fa la forza, date vita a tante piccole Essilor Luxe. Nei mesi più acuti della pandemia il crollo della produzione industriale è intorno al 20%, ma non è il default. Un'indagine della direzione di Confindustria Doluniti certifica che durante il lockdown i fatturati sono calati drammaticamente. La foto di copertina è un omaggio a Giorgio, a Valmorelli lungo e commosso a Dio a Giorgio. Ciao boccia, non sta a far massa casin lassù, mi raccomande che il signor non alse a rabie le frasi lette in dialetto e con dolcezza da una donna del nucleo cinofilo della sezione Anna di Belluno. hanno accompagnato il lungo addio a Giorgio Favero, i funerali del giovane di Valpiana scomparso sabato notte in seguito allo schianto della sua auto contro il muretto di un'abitazione all'altezza del Bivo per Saccona Tricchiana. Si sono celebrati agli impianti sportivi di Valmorelli. Ed ecco qui nella foto di copertina l'ultimo saluto a Giorgio. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, la scuola a settembre, classi del Cattullo in parrocchia prefabbricati per il Galilei, studenti nei locali della chiesa di Loreto, altri nei fabbricati e continuo al lavoro in vista di settembre. L'approfondimento a firma di Forzin lo troveremo a pagina 15. Turismo in crisi, l'allarme dei ristoratori, aiuti statali o chiudiamo, la responsabile Ascom del settore parla chiaro, basta bonus spot, servono riforme e pagamenti. E ancora in Veneto il Covid risale, i contagi progrediscono maggiormente rispetto alle altre regioni. Due positivi, anziano turista e operatrice in casa di riposo. Notizie quindi di carattere regionale e nazionale che troveremo in questa edizione del Corriere delle Alpi. Addentriamoci al suo interno per poi procedere con la lettura del Gazzettino di Belluno. Breve panoramica in merito alle notizie di carattere nazionale e internazionale. Von der Leyen, la UE con l'Italia è stata solidale ma per le riforme ora serve grande responsabilità. Non è vero che le risorse sono solo per il 2021. Se si rispettano i criteri, anche i soldi spesi ora saranno rimborsati. Come Commissione europea vigileremo affinché i fondi siano utilizzati per modernizzare le nostre economie. Ora è importante che i parlamenti nazionali votino a favore della ratifica al Next Generation UE. Queste alcune dichiarazioni della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che vediamo in questo primo piano per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. Ecco il piano da un miliardo per il lavoro sconto alle imprese sulle nuove assunzioni. Sgravi fiscali al 100% per favorire il rilancio dell'occupazione. L'Inps certifica il crollo dei nuovi contratti ad aprile. Effetto Covid, crollo delle assunzioni. Vediamo immediatamente questo grafico elaborato per il Corriere delle Alpi. La situazione nei primi quattro mesi dell'anno, gennaio-aprile 2020, 1.493.000 assunzioni totali. Abbiamo avuto un meno 39% sull'arco dell'anno, un meno 45% per il mese di marzo e un meno 83% per il mese di aprile. Trasformazioni da tempo indeterminato, 199.000 lavoratori intermittenti. Abbiamo avuto un calo di meno 91.000, i somministrati meno 133.000 e gli stagionali un meno 169.000. Nell'aprile del 2020, meno 499.000. Questo è il saldo dei rapporti a tempo determinato. Continuiamo con la lettura del Corriere delle Alpi. Il Covid torna a far paura, 306 contagi. L'allarme riguarda la regione Veneto. Le feste, la movida e le spiagge affollate hanno fatto scendere da 61 a 43 anni l'età media delle persone colpite. Questo è l'andamento tra giugno e luglio. Vediamo che il 23 giugno i contagiati erano 122. Siamo passati al 23 luglio con 306 contagi. Il Covid-19, come lo avete sentito anche dalla prima pagina, progredisce nel Veneto più intensamente che altrove. Solo l'Emilia-Romagna ha registrato un incremento maggiore. Altre 244 persone poste in isolamento. 39 contagi e un decesso nel Veronese con un conteggio relativo alle singole province che è in realtà falsato. Sono 25 in più nel Padovano, 11 nel Veneziano, 2 nel Bellunese, 29 nel Veronese e 2 nel Rodigino. Con un totale in realtà ben superiore ai 30 contagi dovuto alle diverse positività scoperte nei giorni scorsi. Ma erano mente assegnate a province diverse. È questa la fotografia della diffusione del Covid in Veneto alle 17 di ieri. Verso le elezioni regionali, le Sardin abbiamo già sconfitto Salvini con Zaia e Dura, ma sempre Lega Padanae, Santori, Benettono, Conte ha fatto un capolavoro sulle autostrade, Lorenzoni, il Veneto si salva con i fondi UE. Collegamento con Cirina e Botteri, scritte di Forza Nuova, insulti al Pride Village. Quindi siamo vicini alle prossime elezioni regionali che coinvolgeranno la regione Veneto. Ma continuiamo con il Veneto, in edicola la guida ai sapori e ai piaceri che soltanto il mare del Veneto sa offrire. Questa guida la troverete con l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Pagina 15, notizie prettamente bellunesi. Incominciamo con il mondo scolastico bellunese, studenti del Catullo, ospiti della parrocchia. Il Galilei si pensa ai moduli prefabbricati. La provincia ha lavoro per adeguare gli istituti. Bogana, consigliere provinciale con delega alla scuola. Ottimizziamo le strutture per settembre. Saremo pronti. L'articolo affirma di Alessia Forzin. Studenti nei locali messi a disposizione dalla chiesa di Loreto, altri nei moduli prefabbricati. Continua il lavoro della provincia per adeguare le scuole superiori alle norme anti-covid-19 in vista del nuovo anno scolastico che inizierà il 14 settembre. I dirigenti degli istituti, che sono distribuiti dal Feltrino al Cadore, passando per il capoluogo, Longarone e Lagordino, hanno comunicato a Palazzo Piloni le loro necessità e la provincia ha subito avviato i lavori necessari per ricavare nuove aule e permettere a tutti gli studenti di poter frequentare le lezioni in presenza. Buona la situazione nel Feltrino, in Cadore e nella Gordino, in corso alcuni lavori. Pagina 17, il grido di allarme dei ristoratori, lo Stato ci aiuti o chiudiamo? Rossana Roma, dell'Ascom, i bonus spot non servono, chiediamo pagamenti rateizzabili e riforme. Questa è una intervista a firma di Fabrizio Ruffini, servono aiuti concreti per il settore della ristorazione o le difficoltà non si supereranno? Non è convinta Rossana Roma, presidente del sindacato dei pubblici esercizi di Confcommercio Belluno, che riassume così la situazione. Ci stiamo ancora leccando le ferite per quanto è successo con la chiusura e non servono bonus spot, ma riforme strutturali e la possibilità di rateizzare pagamenti. Palasport rinnovato entro l'autunno 2021, via spifferi e polvere finanziato dalla regione, il progetto da quasi un milione per l'efficientamento energetico, previsti risparmi del 30%. Pannelli fotovoltaici, nuovi seramenti e impianti efficienti renderanno il De Mas più confortevole. Altre notizie che riguardano il capoluogo, vuole suicidarsi nel lago ripescata dalla passante, salvata dalle acque del lago da una donna che stava passeggiando, una cinquantenne della zona si è tuffata con intenzioni suicide nel lago di Santa Croce ieri pomeriggio. Era ancora a pochi metri dalla riva prima che il fondale divenisse profondo, quando chi ha seguito la scena ha deciso di immergersi e tirarla fuori dai frutti. Il progetto Interreg, salti in mountain bike, domani i test in Nevegal. Pagina 19 del Corriere delle Alpi, bonifica in corso sull'ardo, rimosso il terreno inquinato, i lavori delle ditte Dama e De Luca proseguono da più di tre settimane, concluse le indagini dell'ARPAF che hanno confermato le responsabilità. Oltre al combustibile ci sono le alghe a rendere scuro il colore dell'acqua. Due richieste di rinvio a giudizio, fatti di cronaca giudiziaria, botte a due agenti di polizia dopo l'assembramento. I fratelli Dahi sono indagati per resistenza e lesioni ai poliziotti della volante e anche per danneggiamento dopo la fuga da un parco. Economia l'indagine di Confindustria, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, fatturato in caro nel post-covid, in difficoltà il 70% delle aziende. Il crollo si aggira al 20%, ma ci sono settori che reggono. Restiamo fiduciosi nella ripresa. Pinelli duro, gli industriali hanno le frecce spuntate, replica dell'ambientalista, l'alpinista Mirano soltanto a spremere in fretta lo sci con le sue devastanti infrastrutture, a loro non importa della comunità. E ancora per quanto riguarda il mondo di Confindustria, da oggi gli stati generali della montagna, Bertone chiederò politiche ad hoc e maggiori risorse. Continuiamo con la lettura del Corriere delle Alpi, operatrice positiva al covid nella casa di riposo di Fonzaso, un centinaio tra ospiti e colleghi sottoposti a tampone, parenti in quarantena, ha scoperto anche un anziano turista e verifiche su due villeggianti romani. Questo per quanto riguarda l'emergenza sanitaria nel Bellunese. Il progetto, tappettini antiguano sotto i nidi di rondine, aumentano gli esemplari, un progetto che è stato ampliato e sviluppato nel capoluogo bellunese dalla provincia di Belluno. Feltre, messa per i 500 anni della Chiesa degli Angeli, il Vescovo Marangoni sarà presente per sottolineare l'importanza dell'evento. La consacrazione dell'edificio avvenne nel 1520, dieci anni dopo la costruzione. Il complesso religioso comprendeva il monastero voluto dal beato Bernardino. Notizia di spalle, il fine settimana in città, venerdì tra musica ex prigioni e l'aperitivo lungo a Pra del Moro, domenica swing e jazz in via 31 ottobre in Largo Castaldi, parole e musica. Dal commercio, il crostino rimesso a nuovo, lavori in corso in piazza Isola, altre novità a settembre con la chiusura del negozio di vestiario Angolo dei Desideri e il trasloco in via 31 ottobre del punto vendita Bottega Verdi. Notizie quindi che riguardano l'area commerciale della città di Feltre. E per quanto riguarda invece l'usl numero 1 Dolomiti, nomina Buda Gastroenterologia al nuovo primario. Il medico ha maturato un'importante esperienza a Bristol, a Feltre dal 2017, ha contribuito all'ambulatorio infusionale. Quindi un buon lavoro al nuovo primario di gastroenterologia all'ospedale Santa Maria del Prato. Parliamo del dottor Andrea Buda. Rubati furgone, motocoltivatore e sementi, banda in azione all'azienda Cordevole, il bottino di oltre 20.000 euro, furto simile al ride nel vivaio mazzoccato di Feltre. I rimattina la mara sorpresa del titolare che nel 2016 era già stato visitato dai ladri. Sempre dal Feltrino, Querovas si sblocca la situazione. Emanuela rientra dalla Bolivia il 24 agosto. Questa è la storia di Emanuela Mondin. Seren del Grappa, progetto definitivo per la rotatoria delle montegge. L'Ungarone, Palasporto e Piscina. Il Comune sostiene l'attività a primo contributo. Una tantum al gestore Lessigna che nel periodo di lockdown ha accusato quasi 100.000 euro di perdite. La tragedia del Vaionta, Gava scrive a Conte, si inoltrano ai comuni gli atti desecretati. Questo dalla Val di Vaionta e dall'Alpago invece lavori a Schiucaz. In autunno riaperta la strada. Il versante è stato consolidato. Il paese messo in sicurezza. Bottacin, l'assessore regionale, ieri in sopralluogo, pronti ad avviare l'intervento per ricostruire la viabilità. Val di Zoldo si inaugura la rassegna dedicata a De Pelegrin. Per maggiori informazioni visitate il sito del Comune della Val di Zoldo e sempre dalla Val di Zoldo, nella frazione di Maresone, tra i punti salienti nell'Assemblea Generale della Regola Grande. E adesso Limana si stringe a Giorgio, le moto e l'igabù e tutto il paese unito per l'addio a Giorgio Favero. La cerimonia è stata celebrata nel campo di Val Morelle con il ricordo struggente di chi gli voleva bene. L'omaggio a Toccio, nel nucleo cinofilo dell'ana di Belluno di cui faceva parte, nelle parole di un caro amico, tutta la commozione per la giovane perdita. E perché si sta guardando da Facebook o YouTube alcuni scatti del funerale che è stato celebrato all'aperto, lo avete sentito, in Val Morelle con la presenza di tutta la comunità e degli amici di Giorgio. Pagina 36, Cencenighe, ruba in casa di un anziano ed evade dai domiciliari patteggiati due anni e otto mesi. Taiboni, il consiglio dei ragazzi impegnato nelle pulizie del monumento ai caduti. E ancora dalla Gordino, due notizie, la prima ci porta alla Valle, riaperta alla regionale 203 in località Lamuda, resta il limite a 30 km orari. Taiboni indetta la selezione per un farmacista. Pagina 37, Cortina D'Ampezzo, si dimette il commissario Sant'Andrea e il sindaco. A ore avremo il sostituto. Gdina annuncia che domani salirà nella conca il ministro dello sport a Spadafora, probabile che darà lui stesso il nome. Valerio Giacobbi, amministratore delegato della fondazione, sarebbe stato meglio evitare questo cambio. Il grosso del lavoro è però alle spalle e quindi restiamo del tutto fiduciosi. E per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, uno scatto di Luigi Valerio. Sant'Andrea avete sentito il commissario che si è dimesso. Sempre da Cortina, lavori a Son dei Prade e la piscina di Guarnier è l'eredità per chi viene. Le opere funzionali all'evento quasi tutte fatte. A Cortina è cancellata la scritta vandalica sulla roccia della Gazzò e di questa notizia ne avevamo già dato spazio ieri con la lettura del Gazzettino di Belluno. Cultura e cinque finalisti del Campiello domani a Cortina. Gli scrittori incontreranno il pubblico alle 18 all'Alexander Girardi con l'organizzazione di Una Montagna di Libri. A Cibiana invece una scultura di Mauro Lampo al Taulà dei Boss verrà inaugurata domani e celebra l'atto di dedizione del paese alla Serenissima Repubblica di San Marco, firmato il 23 luglio del 1420. Dal Comelico Superiore invece le Dolomiti su Sky Sport in versione adrenalinica. Siamo in Comelico, la valle si rifà il trucco in attività, 23 cantieri per 31 milioni di lavori. L'assessore Bottaccini in sopralluogo nei siti dove operano servizi forestali della regione, Genio Civile e Veneto Strade. È Santo Stefano a fare la parte del Leone con ben cinque progetti in itinere o già conclusi. Siamo arrivati alla rubrica giorno e notte, leggeremo dopo, adesso passiamo invece alla lettura del Gazzettino di Belluno. Notizie in primo piano ovviamente al mondo economico ed imprenditoriale della provincia di Belluno. Primavera da incubo allearsi per ripartire Ferrazzi di Confindustria. La pandemia accelera le dinamiche già in atto, digitalizzazione, deglobalizzazione e ridefinizione delle catene di valore. E in questa edizione il Gazzettino pubblica un grafico che rappresenta le aziende che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione. A marzo erano il 67,2%, in aprile il 76%, a maggio il 62,1%. Questo invece è il fatturato, maggio 2020, maggio 2019. Vediamo il calo pari al 78,6%, confrontando i due mesi, solo il 18% in crescita e solamente il 3,4% invariato. Tra il maggio 2020 e l'aprile 2020 il 64% in crescita e il 36% invariato e in calo. La lezione alla Lui, se essere piccoli adesso è un pericolo enorme, si torna in aula e si ragiona su cosa succederà ora. Sarà fondamentale ipotizzare il nuovo scenario. Darin Zanco, vedremo una città più viva grazie al movimento che porteranno qui i giovani. A dirlo Darin Zanco, presidente di Confindustria Giovani. Pagina 5, una casa di riposo per pazienti Covid. L'idea è della regione, ma l'Urs numero 1 Dolomiti rilancia una nuova struttura per ospitare gli anziani contagiati e le reazioni del territorio. Tutto si deciderà al tavolo tra sindaci e prefetto, già convocato per inizio di agosto. Soccal, il sindaco di Alpago, per ora non abbiamo ricevuto indicazioni di interventi particolari. Rimaniamo in attesa. Dal Farascio annullato per pericolo assembramenti, il tour solidale Max Touride è fermato. solo all'ultima tappa nel centro città. L'assessore De Miglia è un evento inserito in una serata in cui sono previste molte persone richiesta tardiva. Anche il gazzettino dedica spazio al progetto Rondini, più nidi via l'operazione contro il guano. A Feltre è spazio al nuovo primario di gastroenterologia, al dottor De Boni, lo avete sentito. Scusate, l'eretità medica di De Boni affidata al goriziano Buda. Notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. A Feltre invece il Feltrino Nicolau tra i neurologi promossi. Scelti responsabili di due dipartimenti dell'ospedale. L'altra decisione dell'USL numero uno Dolomiti ha premiato Roberta Paduani in servizio dal 2006 nell'ospedale. Feltre, finanziamento da 3,5 milioni all'ente parco. Prima idea per gli investimenti, efficientamento energetico e ciclabilità nel mirino di Vigne, l'attuale presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Santa Giustina toglie le videocamere e viene derubato. Un approfondimento della notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. Il ride nella notte di ieri sui social appello per ritrovare almeno il mezzo confido anche nei carabinieri. Furto di furgone, attrezzi alla florovivaistica cordevole per un bottino totale di 18 mila euro. Ma non mogliamo il titolare. L'ispettorato del lavoro voleva multarmi per il servizio di videosorveglianza. Ho dovuto farne a meno. Limana, ciao boccia, vivrai nei nostri trofei. Campo sportivo pieno a Valmorella, addio a Giorgio Favero, il 27enne di Valpiana, morto domenica in un incidente stradale. Ed ecco qui uno scatto del momento dei funerali di Giorgio, proprio fatti all'aperto anche per l'emergenza sanitaria. Lo avete sentito in Valmorella. Lupo, predazione a chiesa, scontro animalisti allevatori. Siamo tutti animali, risponde con dati alla mano. L'allevatore al pagotto che ha perso sei ovini. Venite qui con noi. Pagina 11, Agordo, Cortina chiama e Dancona saluta una nuova sfida. Per anni è stato segretario volontario all'Unione Montana, creati ottimi rapporti di lavoro. Me ne vado con tristezza. Milanese, ha girato l'Italia e nel 2012 prese l'incarico a Falcade. Va combattuto lo spopolamento. Cencennighe, acqua ancora non potabile, a secco 400 operai luxotica. Acquedotti fragili dopo vaia. Intervento in vista, dichiararlo. Il sindaco del comune di Cencennighe, soppelsa. Agordo, nel giardino del Broi, torna al circo. Sogni e fantasie per voltare pagina. Dal 13 luglio il tendone del Patuf sarà ad Agordo con funamboli, musiche clown. Alleghe, fatto di cronaca giudiziaria. Rubon, pensionato, chiede scusa e patteggia. Due anni e otto mesi a 65 anni che venne scoperto in un'abitazione ad Alleghe. Cortina, abbiamo pianto quando ha chiuso. Ora speravamo di vederlo nuovo. La testimonianza delle sorelle Menardi. Elisabetta era proprietaria dell'Ampezzo. Un ulteriore aggiornamento della notizia che aveva aperto ieri l'edizione del Gazzettino di Belluno, riferita alla situazione dell'albergo Ampezzo. Pieve di Cadore, la traversata sui cammini dei nostri nonni, presentato ieri in magnifica il progetto turistico per il Cadore. Dal Comelico, Santo Stefano, a Cantieri Vari e il sopralluogo dell'assessore Bottacin, Auronzo, impregionati in coda, nessun vigile. Questa è la notizia che ha aperto come foto di copertina l'edizione del Gazzettino di Belluno. La protesta di un trevigiano con seconda casa d'Auronzo, bloccato lunedì nel traffico, senza controlli verso le tre cime. Ha inviato la sua segnalazione a Municipio, Dolomiti, Unesco e Prefettura, la circolazione in tilt per ore. Così si inquina. Ed ecco uno scatto della strada che porta alle tre cime di Lavaredo. Siamo arrivati allo sport. Pallavolo dalle scudetti alla B2. Ecco Ilaria Garzaro, il Cortina Express. Porta Belluno l'opposto, tre volte campionessa d'Italia. Con Pesaro, sono Veneta, finalmente torno a casa e sono molto carica. Palla Canestro, colpo JNV Felter, arriva l'estroso campo dall'orto ed eccolo qui in questo scatto. L'allenatore Scano, le caratteristiche di Alberto aumentano la pericolosità fronte a Canestro. Calcio di Serie D, ora c'è anche l'ufficialità. Gli Arboie passa al Belluno. Mountain Bike, Tabacchi e Lazzaretti, Vittoriosi, Ariolo, Terme. Il Cadolino primo assoluto, lo Junior, porta subito al successo la nuova divisa del pedale Feltrino. Dall'azienda del Gazzettino, Val Vizdende, vero luogo del cuore, le Dolomiti protagoniste nell'iniziativa del FAI, secondo sito più votato in Veneto. Si può scegliere fino al 15 dicembre in palio, contributi economici. Dalla rubrica invece, giorno e notte del Corriere delle Alpi, lifting alla Traversata del Cadore, un itinerario pedonabile di 75 chilometri. Sinergia tra Magnifica Comunità e Unione Montana per sviluppare il turismo. Saranno investiti 160 mila euro per sistemare i sentieri danneggiati da vaia. Partendo da Auronzo, il tracciato si snoda in tutto il Cadore per arrivare a Perarolo. E sempre dall'agenda del Corriere delle Alpi, domenica a frammenti d'arte, la chiesa di Col de Roo e la tesi sul restauro, tutto questo a Borgo Valbelluna. Ponte nelle Alpi, oggi in scena le Bretelle Lasche con Felici i Felici. Con il teatro delle Bretelle Lasche, venerdì parte la nuova kermesse culturale estiva che vuole valorizzare il nuovo spazio della piazza e il giardino della biblioteca civica. L'appuntamento quindi alle ore 20 e 30 con la compagnia Le Bretelle Lasche. Passiamo adesso alle previsioni del meteo in Veneto per la giornata di domani. Possibile residua variabilità fino alle prime ore seguite da tempo in prevalenza stabile e soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti, venti in quota inizialmente moderati e occidentali, in successiva attenuazione in pianura da deboli a tratti moderati e regime di brezza lungo la costa. Mare poco mosso, temperature minime in diminuzione, massimi in aumento anche sensibile. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Bellun. Torneremo in replica via streaming questa sera alle 20 e domani mattina a luna ora locale italiana. Vi ricordo l'appuntamento di oggi con News in quota alle ore 19 e 50. Domani invece vi aspetta Ernestina Dallacorte alle ore 21 con Ernestina Dallafine nel mondo. Nuovo appuntamento quindi con la nostra corrispondente direttamente da Buenos Aires. È davvero tutto per Edicola Bellun. Buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel mondo.